Abbiamo seguito la rete relazionale, siamo arrivati in questa abitazione di Vibomarina, una villetta apparentemente inserita in un contesto urbano normalissimo. Abbiamo fatto un intervento alle 4 di questa notte insieme all'ottavo Elinucleo e allo squadrone Eliportato Cacciatori. Ci siamo preoccupati di cinturare tutta la zona, tutta la casa in modo di fare un intervento in tranquillità e in sicurezza. Cassarola è stato arrestato al pennello di Vibomarina dove durante la latitanza ha goduto della protezione della famiglia e di una rete di sodali. I carabinieri del comando provinciale di Vibomarina lo hanno rintracciato dopo un anno di latitanza. Rosario Pugliese, 54 anni, conosciuto come Saro Cassarola, era sfuggito alla cattura nell'ambito della Max Operazione Rinascita Scott del 19 dicembre 2019. La direzione distrettuale antimafia di Catanzaro lo considera il capo della cosca Cassarola operante a Viboe in provincia. Tra le persone rinviate a giudizio due giorni fa figura il suo nome come elemento di spicco accusato di associazione mafiosa. Aveva, secondo gli investigatori, un ruolo decisionale nella famiglia d'Indrancheta del quartiere Affaccio da cui partivano gli ordini per gestire il controllo del territorio ma anche direttamente le estorsioni. Pugliese sarebbe socio occulto di attività come barre ed esercizi commerciali ma anche pompe funebri. Alla conferenza stampa presso il comando dei carabinieri di Vibo il procuratore Nicola Gratteri è arrivato indossando una tuta. Ero impegnato in un sopralluogo nell'aula bunker di Lamezia Terme che verrà inaugurata il prossimo 15 dicembre, spiega. Mi ha chiamato il colonnello Capece per darmi questa bellissima notizia e non potevo mancare qui a Vibo. L'arresto di oggi dimostra come le forze dell'ordine non si adagiano sugli allori, ha proseguito. E' importante la cattura di questo latitante, intanto era un promotore dell'associazione delinquere, intanto la riprova che chi è imputato, chi è indagato o imputato di associazione delinquere stava mafioso trascorre la latitante sempre sul tuo territorio perché un mafioso, un capo mafia deve stare sul territorio perché è una forma di esternazione del potere.